A conclusione della sessione plenaria 2018 della Congregazione per la Dottrina della Fede, a proposito dello studio sulle questioni dottrinali e pastorali riguardante l'accompagnamento dei malati nelle fasi critiche e terminale della vita, i padri, i membri della congregazione, hanno suggerito l'opportunità di un documento che trattasse della tematica non solo in modo dottrinalmente corretto, ma anche con un accento fortemente pastorale e con un linguaggio comprensibile. Si sarebbe trattato di approfondire in particolare i temi dell'accompagnamento e della cura dei malati dal punto di vista teologico e antropologico, focalizzando anche alcune questioni etiche rilevanti e implicate nella proporzionalità delle terapie e riguardanti l'obiezione di coscienza e l'accompagnamento pastorale dei malati terminali. Alla luce di queste considerazioni e per quanto l'insegnamento della Chiesa in materia sia già chiaro e contenuto in noti documenti magisteriali, in particolare la lettera enciclica Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II, 25 marzo 1995, nella dichiarazione jura et bona della nostra congregazione per la dottina della fede del 5 maggio 1980, nella nuova carta degli operatori sanitari 2016 della loro Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, oltre che i numerosi discorsi e interventi effettuati dagli ultimi sommi pontefici, un nuovo organico pronunciamento della Santa Sede sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminale nella vita è parso risultare opportuno e necessario, in relazione alla situazione odierna caratterizzata da un contesto legislativo civile e internazionale sempre più permissivo a proposito dell'eutanasia, del suicidio assistito e delle disposizioni sul fine vita. Queste sono le ragioni che hanno consigliato la pubblicazione di questo documento. Il documento offre un approccio integrale alla persona umana, alla sofferenza e alla malattia, al prendersi cura di chi si trova nelle fasi critiche e terminale della vita, un prendersi cura che a sua volta non può ridursi alla sola prospettiva medica o psicologica, ma si sostanzia nell'avere cura di tutta la persona in stato di bisogno. Perché, come ben detto nel primo paragrafo del testo, dal titolo Prendersi cura del prossimo, la cura della vita è la prima responsabilità che il medico sperimenta all'incontro con il malato. Essa non è riducibile alla capacità di guarire l'ammalato, essendo il suo orizzonte antropologico e morale più ampio, anche quando la guarigione è impossibile o improbabile, l'accompagnamento medico-infermeristico, cura delle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, psicologico e spirituale, è un dovere ineludibile, perché l'opposto costituirebbe un disumano abbandono del malato. Samaritanus bonus insiste dall'inizio alla fine su questa dimensione integrale dell'avere cura. In questo senso il documento mette bene a fuoco, ritornando via più riprese sul fatto che il dolore è esistenzialmente sopportabile soltanto laddove c'è una speranza affidabile. E una speranza simile può essere comunicata soltanto laddove c'è una coralità di presenza che spera attorno al malato sofferente. La lettera Samaritanus bonus fa appello a un'esperienza umana universale, quella per cui la domanda sul senso della vita si fa ancora più acuta allorquando la sofferenza incombe e la morte si approssima. Il riconoscimento della fragilità e vulnerabilità della persona malata, anche se in radice, fragile e vulnerabile e l'essere umano come tale, apre lo spazio, come già sottolineato, all'etica del prendersi cura. Esercitare la responsabilità nei confronti della persona malata significa assicurarne la cura sino alla fine, guarire se possibile, avere cura sempre, diceva Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. Ed è uno sguardo contemplativo, così si suggerisce, uno sguardo cioè totale, rivolto alla persona come un tutto, quello che permette un allargamento della nozione di cura. Quest'intenzione di curare sempre il malato offre il criterio per valutare le diverse azioni da intraprendere nella situazione di malattia inguaribile. Inguaribile, infatti, non è sinonimo di incurabile. La Chiesa non cesa di affermare il senso positivo della vita umana come un valore già percepibile dalla retta ragione che la luce della fede conferma e valorizza nella sua inalienabile dignità. Affermare la sacralità e l'inviolabilità della vita umana significa non misconoscere il valore radicale della libertà del sofferente, fortemente condizionata dalla malattia e dal dolore. Tale misconoscimento si verificherebbe però, proprio nel momento in cui si dovesse a consentire alla richiesta di negargli con l'eutanasia ogni ulteriore possibilità di relazione umane benefica.